Voglio chiederti una domanda da parte di un nuovo fratello, si chiama Antonio, e lui ha scritto dicendo Caro fratello Giuseppe, sono molto stupefatto. Essendo un ex testimone di Geova, sono molto meravigliato delle tue capacità profetiche. Anche se io, modestamente, con conoscenza biblica, avevo molti sospetti che la mia società non insegnasse correttamente. E adesso come diceva? Vorrei una spiegazione. Come mai tu parli di un inferno popolato? Nella tua intervista a un insatanata, mentre un americano studioso biblico parla di un inferno ancora vuoto da ripopolare dopo Armageddon? Probabilmente è il testo di Geova, probabilmente. Eh, non lo so. Allora, è finita la domanda? Sì, è questa la domanda. Ho capito, allora. Quindi in sintesi, questo insegnante americano... Dice che non c'è nessuno nell'inferno. Solo dopo Armageddon ci saranno delle anime. Suppongo il testo di Geova, è vero, è il testo di Geova che conoscono molto bene la Bibbia. Però siccome non credo in uno spirito santo, non riesco a interpretarla sempre bene. No, lui ha ragione su questo. Questo insegnante gli ha ragione. Digli che ha ragione e in questo momento, anche io sono d'accordo con lui, l'inferno non è popolato. Però lui dice che mi cita, che lui dice che io ho detto... E non... sì. E magari ho detto anche qualcosa così di... Che quando... mi pare quando stavamo cercando... Quando abbiamo liberato una... una posseduta o qualcosa di... Anche ho parlato con il diavolo, mi pare che il diavolo mi rispondeva. C'è un discorso, non lo so come... non mi ricordo. Comunque lo diamo su internet, mi pare che stiamo... E io ho detto qualcosa che è interpretabile che all'inferno c'è gente adesso. Sembra di sì. D'accordo, d'accordo, va bene. Guarda, adesso non credo che ci sono gente all'inferno, però se ho detto qualcosa del genere, forse mi riferivo, non mi ricordo il contesto adesso, esatto, però anche sulla nostra prima pagina radio abbiamo testimonianza di Bill Weiss, un evangelico americano con sua moglie, e la mia te... il mio discernimento è che è un uomo di Dio, questo qua dice la verità. Bene, questo qua ha scritto un libro, ha fatto un sacco di video, si chiama 23 minuti all'inferno, Bill Weiss. E questo qua ha visto la gente che bruciava l'inferno, l'ago di fuoco. E io ho la mia impressione che questo qua dice la verità. Però, secondo quello che capiscono la Bibbia, all'inferno adesso non c'è nessuno. Va bene, anche mi pare che lui ha detto dopo Armageddon, dice no, dopo Armageddon ci sarà gente. C'è gente nel lago di fuoco, no? Sì, sì. E beh, questo non è esatto. Dopo Armageddon è solamente il falso profeta e solamente l'anticriso e basta, non c'è gente, solamente loro due. Vi aspettare dopo il millennio, Apocalisse 20, verso 11 al 15, che chi non è scritto nel libro della vita davanti al trono bianco viene gettato nel lago di fuoco. Quindi Apocalisse 20 dal 11 al 15, solamente lì, dopo il millennio. Allora, aspetta, puoi ripetere le referenze? Come hai detto che tu hai capito dalla Bibbia che non c'è gente nell'inferno per adesso? O dove è scritto questo? È scritto in Apocalisse 20 dal 7 al 15. Il 7 finisce il millennio. Capito? Apocalisse 20, dal 1 al 3, il diavolo è legato nel pozzo senza fondo, che secondo me è al centro della terra. Ok. Pozzo senza fondo. Dopo i mille anni viene liberato, quindi Apocalisse 20, verso 7, il diavolo è liberato, dice dopo i mille anni. E poi inganna la gente, eccetera, verso 11 c'è il trono bianco. Giudizio? Sì, sì. Va bene? E verso 13,15, va bene? Dice, chi non è trovato scritto nel libro della vita sarà gettato nel lago di fuoco. Il giudizio del trono bianco. Sì, quindi lo dice nel trono bianco, verso 11, che segue, e verso 7, che dice dopo il millennio. Sì. Da lì prendiamo che non c'è nessuno nel inferno adesso. Tranne l'anticristo, il falso profeta, Apocalisse 19, verso 20, sono gettati nel lago di fuoco alla fine della battaglia di Armageddon. Non appena muovono questi due, che sarà questo papa o uno chi per lui, va bene, che secondo me è un papa, secondo me è il falso profeta. Quindi un falso cattolico, un falso cristiano. E quindi sono gli unici due, perché? Perché il signor non ha più bisogno dell'anticristo e questo demono ha finito. Quindi adesso non c'è nessuno nell'inferno. No, adesso no. I primi che avranno l'onore di essere gettati lì sono l'anticristo e il falso profeta, ma solo dopo Armageddon. E poi mille anni nessuno sarà gettato nel lago. Nessun altro. Ah, ok. Nessun altro perché saranno giudicati al trono bianco. Ok, ho capito. E dopo il trono bianco? Dopo il trono bianco c'è capito la seguente, Apocalisse 21, verso 1 e 2. Ma cosa succede al trono bianco? Chi sarà gettato nell'inferno? Tutti quelli, versi 13 e 15, tutti quelli che non saranno trovati e scritti sul libro della vita. Ah, quindi sarà un giudizio e le anime condannate saranno gettati. E poi c'è anche la scrittura sempre in quel capitolo che dice anche la morte sarà gettato nel lago di fuoco. Quindi non ci sarà più morte sulla terra. Non ci sarà più morte perché dopo il capitolo seguente, Apocalisse 21, c'è il nuovo cielo e la nuova terra e vi distende dal cielo, verso 2, come una sposa, il nuovo Gerusalemme. Ma appunto quelli scritti nel libro dell'Agnello, la sposa di Cristo, sposati con Cristo, Apocalisse 19, 7, la vigilia di Armageddon. Apocalisse 19, 7, vigilia di Armageddon, Armageddon verso 11, va bene, quattro scritture dopo. Quindi sposati prima di Armageddon, quindi Apocalisse 21, 1 e 2, scende dal cielo, scende dal cielo la nuova Gerusalemme e vide una nuova terra. Quindi Apocalisse 20, scende fuoco dal cielo, Apocalisse 20, verso 9 e 10, scende fuoco dal cielo e brucia tutti quelli che si rivalano contro Dio. Gli abitanti del millennio che non si sono convertiti durante il millennio, accedendo alla città dei santi, la santa città di Letta, cioè che da Zaccaria 14 sappiamo che è la Gerusalemme di oggi. Hai menzionato l'esperienza di Bill Weiss che ha visto le anime che urlavano e soffrivano nell'inferno. Sì. Quindi non è una cosa che succede adesso? Non credo. Credo che quello che Bill Weiss ha visto era una proiezione, ho capito, di quello che sarebbe avvenuto. Se tu vedi in Apocalisse 20, verso 15, parlando al passato remoto, il profeta dice, dice, ha scritto, dice, e chi non fu trovato? Scritto. L'arrivo della vita fu già attacco nella stagna di fuoco. Parla del passato remoto, ma questo duemila anni fa non era mica già avvenuto, però a volte vedi nella Bibbia, Dio vuole vedere cose che non sono come se fossero, è come un racconto, una narrazione, una storia e vide, perché lui lo vide e quindi per lui era già successo, uno, due, tre, quattro secondi prima, ha visto, un'ora prima, ha visto nella visione, vidi le anime di chi non era scritto nel libro della vita e fu gettato, passato remoto nel segno di fuoco. Quindi quello, quindi quello è una visione, è una visione, cioè Giovanni, non è che scriveva così velocemente al computer, Giovanni vedeva delle visioni e poi le descriveva, vedeva. Bill Weiss ha visto una visione del futuro, questa è la mia interpretazione, poi ognuno interpreta come vuole, non è che qui possiamo essere dogmatici, no? E poi ci sono delle scritture nella Bibbia, in Luca 16, che parlano del ricco e Lazaro, e il ricco è in un posto molto brutto dove ha bisogno di acqua, ha detto questa fiamma mi tormenta e non è l'inferno. Bene, nella Bibbia inglese King James dice inferno, dice hell, però altre Bibbie come per esempio la Diodati italiana e altre Bibbie inglesi come l'Amplified, the New Living Translations, the New King James, dice ades. Quindi ades vuol dire soggiorno dei morti, come correttamente tradotta nella Bibbia italiana, nella Nuova Diodati. Anche Nuova Riveduta, sì. Sì, che è un'ottima Bibbia, vi consiglio a tutti prendete la Nuova, sì anche la Riveduta è una buona Bibbia, tutte queste Bibbie protestanti evangeliche, va bene? Sono tutte tradotte dalla Diodati, capito? Giovanni Diodati, capito? Diodati, cioè dato da Dio, è un uomo che Dio ci ha dato. Giovanni Diodati ha fatto la traduzione bellissima, perfetta, però era un italiano arcaico e da lui vengono tutte queste Bibbie, la Riveduta, la Nuova Riveduta, la Diodati, eccetera. Sono tutte Diodati le Bibbie protestanti italiane. Purtroppo la Bibbia cattolica italiana va bene, ma non troppo, perché è stata molto anacquata e anche inflazionata, gonfiata con i libri apocrifi, che non sono biblici. Infatti in Luca 16, 23, in greco, dice ades. Esatto, quindi sì, la Bibbia inglese dice hell, inferno, è sbagliato, la traduzione doveva essere soggiorno dei morti. Comunque la Nuova Diodati dice inferno. La Nuova Diodati dice inferno, la Nuova Riveduta dice ades, e il greco originale dice ades. Ah, non sapevo che la Diodati dice inferno. Su serio, ha controllato? Ho appena controllato, sì. Ha controllato, ah, scusate. Luca 16, 23. Ah, chiedo scusa, fratelli, la Nuova Diodati dice inferno, però sbaglia. La perfezione qui è quando c'è arrivato a nessuno, eh. Per esempio io sono lontano. E la Diodati li ha sbagliato. Allora, questo ades cosa è? Ades è il soggiorno dei morti. Cosa è il soggiorno dei morti? E quando uno muore, quando uno muore, cosa dice Ebreu 9, 27? È dato agli uomini di morire e poi viene il giudizio. Sì. Immediatamente, non il giudizio finale, ma un giudizio al bivio della morte. Dopo che muori, cosa c'è davanti a te? Un bivio. Uno va giù, fondo, brutto, tenebroso. Io ho avuto un'esperienza lì, è lì che mi sono salvato. E un altro che va su un tunnel che va verso la luce. Quindi il tuo spirito esce dal corpo e va, c'è un bivio. I demoni vengono, prendono lo spirito dal morto, lo spirito non è morto, e lo trascinano nell'Hades, dove è pieno di demoni. E lì, caro mio, si salve chi può. Lì la gente che non vuole Cristo, lì è accontentata. La gente che non vuole ordine, ma vuole caos, vuole ateismo, lì è accontentata. La gente che oggi combattono contro Dio, saranno accontentate, andranno in un posto dove Dio non c'è. Demoni, posseduti, gente che si odiano, e quello che fanno si picchiano dalla mattina alla sera. Io sono stato, ho avuto un'esperienza lì, che ho già raccontato. Allora tu dici nel suo giorno dei morti nell'Hades, ci sono i demoni? Ma sono loro che sono in controllo in Hades? Sì. Perché sempre si parla che il diavolo è in controllo nell'inferno, però sappiamo che non sarà così. Ma c'è l'Hades però. Eh, perché il diavolo sarà bruciato nel lago di fuoco, tormentato, non è in controllo di niente. Non c'è nel lago di fuoco il diavolo adesso. Però in questo Hades? Nell'Hades sì. Sì. È certo. Qui è il posto dove lui ancora ha un po' di potere. Sì, anche in Giuda 1.6 dice che gli angeli ribelli furono segregati in un posto, segregati in un posto, fino al giorno del giudizio. C'è anche il posto dove i demoni sono segregati. Cosa è questo posto? E sarebbe, in greco si chiama abussos, in italiano si dice abisso. E il posto è che quando, sai quando i demoni hanno parlato a Gesù, che Gesù si è avvicinato alla legione dei demoni, i demoni cosa gli hanno detto Gesù? In ci tormenti. Sei venuto a? A tormentarci. Prima? Prima del tempo. Sei venuto a tormentarci prima del tempo? In Matteo 8. E in Luca 8 aggiunge un dettaglio, dice non ci mandare nell'abisso, che il greco dice abussos. Cosa vuol dire abussos? A è negativo, no? A è negativo, vuol dire, e busso vuol dire buco, vuol dire buco, fosso senza fondo. C'è un fosso che non ha fondo. E secondo me quel fosso è il centro della terra, va bene, che siccome la terra ruota, il pavimento di adesso, fra 12 ore diventerà soffitto. Quindi non c'è il fondo. Quindi secondo me è lì che i demoni sono segregati, Giù da 1 verso 6. Ma quella non è l'Hades? No, quello è simile ma un altro. È lì che il diavolo sarà imprigionato, poca lì, 6 e 20, dall'1 al 3 per mille anni. Quindi è una prigione. Che dice proprio abussos, con la catena in mano, lo segregò nell'abisso senza fondo. Le traduzioni variano, ma il greco dice abussos, vuol dire fosso senza buco, fossa, pozzo come vuoi chiamarlo, senza fondo. E praticamente si è dentro come in una gabbia che gira in continuazione. Ok, ho capito. Allora, questo fratello per rispondere in due parole, si ha ragione nell'inferno, adesso non c'è nessuno. Sì, il tuo insegnante ha ragione, adesso non c'è nessuno, sarà dopo Armageddon. Però lo puoi correggere, digli ad Armageddon, apparentemente da tutte le nostre cognizioni e informazioni bibliche, ci sarà solo l'anticristi o il falso profeta, alla fine di Armageddon e per mille anni nessun altro e tutti andranno a raggiungerlo, che sono perduti, dopo il millennio, dopo il giudizio del trono bianco. Questo puoi dirglielo tranquillamente. E dagli le scritture, ed è così perché lui non può avere altre scritture diverse da queste. Va bene? Quindi quando vai con le scritture, non importa se sono dei signori di Gia, o mormoni, cattolici, o evangelici, vai con le scritture, vai tranquillo. Va bene? Imparate, fratelli, se camminate di scrittura in scrittura siete come dei carri armati, nessuno, siete come un bulldozer, nessuno può contrastare, siete come uno schiacciassassi anche, anzi, anzi. Quindi spianate tutto, macinate tutto perché la parola dice a Geremia, ha detto Dio, Dio ha detto a Geremia, non è la mia parola come un martello, capito? Anzi, io direi una mazza. Va bene, Gesù ha detto, colui sul quale questa mazza, questo martello, ha detto, dice, colui sul quale la pietra cadrà, Matteo 21, sarà ridotto in polvere. Andiamo. Una domanda arrivata cinque minuti fa da parte di Filippo. Mandate tranquillamente domande che Angela è pronta. Anche d'ora oggi. Ciao a voi cari fratelli e sorelle, dice Filippo. Dove vanno le anime dei morti che non credono in Cristo? E' lì. Dove? Lì? Nell'inferno o nell'Hades? No, nell'Hades. Nell'Hades vanno. Nell'Hades. È in attesa del giudizio. Ma l'inferno cosa è? L'inferno è inferno? Cioè, diciamo, è l'ago di fuoco. Ah, quello è... Ok. Sì, perché ci sono Inferno, Hades, Abisso o Abusso e l'ago di fuoco. Ci sono tanti posti che dobbiamo capire cosa... Quale è la differenza? Guarda, i posti sono uno, due, tre... Sono quattro posti, d'accordo? Uno, un salvato, un salvato muore, va in cielo. Ok. Se è scritto nel Valangnello va a Nuova Gerusalemme. Adesso subito di corsa. Ma non c'è la Nuova Gerusalemme adesso? Sì che c'è. E dov'è? Che ho detto che non c'è. E sarà dopo il millennio solo? In Apocalisse 21? E scende! Ma viene preparata adesso? Ah, ok, ok. Quindi c'è da qualche posto, ma non scende? Nel Regno di Dio. Ok, ok. Capito? E la Nuova Gerusalemme, perché non è ultimata? Perché ci sono ancora anime che devono entrarne? Eh, perché mancano anime. La Nuova Gerusalemme è viva, fatta di pietre vivente, mancano pietre. E perché Dio non la vince? Non c'è qualche mani, qualche carpentiere, qualche muratore? Ma no, i carpentieri muratori, come Neemia, oggi siamo noi. Siamo noi che costruiamo le mure di Gerusalemme. Infatti la Nuova Gerusalemme siamo noi con ogni anima. Per questo che dobbiamo svegliarci, ragazzi, che la nostra chiesa è mezza addormentata qui, ragazzi. Cerchiamo di svegliarci, perché noi crediamo che siamo, non siamo niente. Qui dobbiamo svegliarci di più, ragazzi. Qui stiamo scaldando panche, va bene? Nel nostro soggiorno, salotti, sala d'aspetto. Va bene, quindi cerchiamo di darci da fare. Ogni anima che testimonia, non è che devi salvarla l'anima. Preghi per ricevere Gesù la salvezza? Sì, ma non sei tu che la salvi. Tu testimonia, è meglio testimoniare a cento che pregare la salvezza con uno. Perché poi lo Spirito Santo li salva per conto suo, non ha bisogno di noi per dare la salvezza. Noi siamo chiamati non a salvare, ma a testimoniare. Avanti Angela. Ha detto che ci sono quattro posti? Sì, alla morte ci sono quattro direzioni, no? Tre subito, uno arriverà. La prima è salvato, va in cielo. E lì c'è un bivio, no? In Gerusalemme è in costruzione e poi c'è il regno di cieli, paradiso. Anche nel cielo ci sono tante dimore. Oh, aspettate, ma salvati che non sono sposa. L'odicea, dove va l'odicea? Che Gesù dice, l'odicea, botte da orbi. Nel cielo? Nel cielo, mica va l'inferno. No, no, nel cielo. Andrà a vergognarsi, ma non è Gerusalemme, non è l'inferno. E quelli non salvati? Quindi due direzioni già abbiamo adesso. I non salvati vanno tutti quanti nell'Hades. Tutti? Eh sì, se non sono salvati, sì. Perché gli altri posti cosa sono? C'è l'Hades, c'è l'Inferno, il Lago di Fuoco, Abusso? No, l'Abusso dove ci sono i demoni. Ah, solo i demoni. Solo per i demoni. I demoni, non noi quando moriamo. Gli esseri umani che muoiono non vanno nell'Abusso. Per questo che vedi i spiriti che vanno in giro a possedere persone, c'è gente posseduta, spiriti che escono. Perché non sono legati. E il Lago di Fuoco per adesso non c'è nessuno, l'abbiamo già spiegato. Tutte le anime dei non salvati vanno nell'Hades. Nell'Hades poi ci saranno, suppongo io, non lo so, suppongo io, diversi livelli. Io per esempio mi ricordo, ero in questa caverna che mi torturavano i demoni. In Hades? In Hades. Erano delle persone, erano degli esseri pieni di sangue, conciati, che mi torturavano. E poi mi sono salvato. Sono lì aspettando il giudizio del trono bianco. E l'inferno è lo stesso con il Lago di Fuoco. Sì, sì. Inferi, l'inferno, il Lago di Fuoco, cioè la Genna, chiamata in greco la Genna. Sai cos'è la Genna? Era l'immondezzaio di Gerusalemme. Era un posto fuori Gerusalemme dove si bruciava l'immondizia. Va bene? E lì dice Gesù, il fuoco non si spegne. Il verme non muore e il fuoco non si spegne, ha detto Gesù cos'è, mi pare Marco IX. Perché? Perché nella Genna era pieno di immondezzaio che fumava notte e giorno. Lì bruciava l'immondizia, aveva montagna immondizia, bruciava sempre notte e giorno. E c'erano i vermi lì che mangiavano l'immondizia, però i vermi non morivano. Nonostante c'era fuoco, i vermi sempre in giro evitando il fuoco, mangiando l'immondizia. E il fuoco non si spegne. Quindi Gesù ha usato questa Genna, che era un luogo dove bruciano l'immondizia, va bene? Che dovrebbero farlo oggi in ogni rione, non mandare l'immondizia sulle navi, sull'impazzitio, pazzi. Abbiamo invece fuori dalla città, ogni città si brucia la sua immondizia. Va bene? Non è come oggi, caricano le navi e le mandano alle Filippine, in Thailandia. Sai cosa stanno facendo i tailandesi e i filippini? Stanno rimandando l'immondizia indietro, al Canada, all'America, eccetera. Tenete la vostra immondizia. E gli ha detto Duterte, il presidente filippino, se non vi riprendete la vostra immondizia, navi cariche di immondizia, va bene, è anche già scaricata nelle Filippine, veniamo lì davanti al vostro porto, ve le scarichiamo lì. i canadesi, ah, hanno detto i canadesi, adesso tu fai la nostra lingua, la riprendiamo subito. Perché sai, il diavolo se non gli dà una bastonata in testa, non è che capisce. È la storia della mula che non capiva, ti ricordo della storiella. E ci è voluto il bastone. Un'altra domanda, posso? Il contesto di questo è che nella Bibbia invece non mandarono navi cariche di immondizia. Capisci? Li bruciavano sul posto. Ogni città aveva un inceneritore all'aperto. Fuoco. Ciao, arrivederci. La plastica, mettete in prigione i criminali della multinazionale, la plastica si ferma. Fin quando non li mettono in prigione, questi qua, la plastica non si fermerà, guadagnano troppo. Ai lavori forzati. Capisci? Lavori forzati, non voglio dire gulag di Stalin a spaccare pietre. Dico, senti, come i contadini, come quelli che raccoglono i pomodori a Napoli, cioè, tranquillamente, lavorare come gli altri. E chiudere tutte le prigioni però, e aprire i campi di lavoro, però lavorare come gli altri, non, qui non si tortura nessuno, io sono a favore di quello. A lavorare questi qui in carcere, a lamentarsi che hanno solo una televisione invece di due. Avanti, per cortesia. Una domanda, vorrei chiederti sull'argomento di prima, sugli omosessuali. Ernesto, dall'Australia, ti scrive, salve fratelli, volevo sapere se in Apocalisse 22, verso 15, dove dice, fuori i cani, eccetera, eccetera, si poteva essere riferito anche agli effeminati? perché secondo me, chi crede in Gesù, essendo gay, potrebbe andare sulla nuova terra. Cosa ne pensi, fratello Giuseppe? Sono d'accordo. Interessante. Sono d'accordo, Ernesto dall'Australia. Sì? Sì, sono d'accordo. Cento peggio, bravissimo fratello. Sono d'accordo con te. Ma questi che, anche se sono gay, sono credenti, prima di andare sulla nuova terra, dovranno passare il giudizio del trono bianco? Sì. Quello è un giudizio duro? per il rotto della cuffia, dovranno passare quel giudizio, e ricordati bene, appunto, Ernesto ha proprio interpretato bene, perché dice in Primo Corinzi 6, cosa dice? Non. Andranno nel Regno dei Cieli. E loro come fanno adesso sulla nuova terra? Perché lì non è il Regno dei Cieli. Bravissima, esatto. La nuova terra non è il Regno dei Cieli. No. Infatti, Gesù ha fatto distinzione in Matteo 5. Ha detto, Benedetti, i poveri perché erediteranno la terra. Cioè, capito? Anche se tu non sei cristiano, eccetera, però puoi ancora ereditare la terra. Benedetti i poveri in spirito, erediteranno la... Da quella scrittura, la cortesia, Matteo 5. Benedetti... Dei chari neri di oeuf. Tant'io prendo fiata, no? Così anche Angela si riposa. Ti chiedo un'altra domanda. No, ma tu non dai riposo ai santi di niente. Dopo la diretta puoi riposare. Matteo 5.5. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Perfetto. Verso 8. Quelli che sono puri di cuore. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Perfetto. Capito. Vedi, Gesù fa una differenza, no? Al verso 5, Beati i mansueti erediteranno... La terra. Non il regno di Dio. La terra. Quindi, anche se tu anche che non hai ricettato Gesù, non hai voluto Gesù, però al trono bianco si scopre che eri non così malvagio. Chi è? Qual è la definizione di uno che non è troppo malvagio? Uno che non lavora a ingannare, uno che non gode nel fare del male, uno che non insegna l'omosessualità, uno che non va in giro a insegnare il gender nelle scuole. Questo è un attivista, attivista per Satana, un insegnante a scuola che attivamente insegna l'omosessualità è un attivista per Satana. Non lo vedo nel regno, non lo vedo superare il trono bianco, no? Più o meno, parlo per l'approssimazione, perché stai lavorando per ingannare. Sei un insegnante, dovessi insegnare l'amore, insegnare, non dico Cristo, ma almeno insegnare l'amore, le cose belle. No, vai a insegnare a diventare trans, a castrarti. E tu mi sai che te il trono bianco sarà dura per passarla, perché se attivamente stai cercando di glorificare Satana, e te non ti vedo molto. Mi opinione, poi si vedrà, grazie a Dio che non sono giudice. E poi verso 8 di nuovo? Cioè ecco, verso 8 c'è un altro livello, verso 8. Vedi come Gesù è preciso. Matteo 5,8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio? Oh, i puri di cuore. Guarda, io non mi sento puro di cuore. Spesso che ho bisogno di dare un po' di detergente, il sangue di Gesù. Non mi sento quel livello. Quindi puri di cuore è il massimo. Paolo, si sentiva Paolo puri di cuore? Romani 7, no. Romani 7, no. No, no, no. Cosa diceva? Sono un disgraziatone. Uno buono a nulla. Sono un fetente. Che altro diceva? Diceva il capo dei peccatori. Ecco, vabbè, insomma io, sai, traduzione libera. Troppo libera. A te le scrivete email per incoraggiare Angela e Dora che, sai, sono anime troppo immacolate per lavorare con me. Mi sa che di solito incoraggiano te. Ma siete cascate male. È un predicatore che si salve chi può. Allora, dove eravamo? Verso 8. Allora, qui siamo a livello più in alto. Quegli altri, mi sembra a me, occhio croce, che sono quelli che passano a trono bianco e vanno a nuova terra. Ci sono principi, però non sono salvati. Come? They have principles. Hanno dei principi. Però non sono salvati. Dei principi morali. Sì. Però per qualche motivo hanno rigettato Gesù. Però non sono così malvagi con la patente. Sì. Malvagi di professione. Che vogliono ingannarti, guidarti come sto Papa. Guida all'inferno. Allora, questa, scusa, questa qui la va dura, eh. Va bene. Invece, verso 8, dice, Puri di cuore, mamma mia, ragazzi. Non so, Madre 13 di Calcutta, non so, San Francesco, uno così. Io, cioè, se Paolo diceva, sono schiavo del peccato, frate Giuseppe, neanche parlarne, caro mio. Se quella è schiavo del peccato, chi sono io? Oh, quella è San Paolo. Quindi, allora, però, dici, puri di cuore. Però il Signore dice, guarda le intenzioni anche. Paolo era schiavo del peccato, romani capitolo 7, però la sua intenzione era buona, no? Non è bello che Gesù guarda le intenzioni, ebrei 4,12, cosa dice la spada, la parola di Dio come una spada separa le intenzioni del cuore. Sì, perché non guarda solamente le intenzioni, ma anche le opere. Ok, va bene, prima le intenzioni, ma dopo anche le opere. No, ma questo, sto dicendo, questo vuole essere un incoraggiamento per i fratelli conciatti male come me. Va bene. Che c'è speranza, se c'è speranza per me, diranno senz'altro che c'è speranza anche per loro. Avevo finito? Sì. Ho chiuso il cerchio? Sì, sì, va bene. Ho fatto quadrare il cerchio? Sì. Ho quadrato il cerchio? Sì, it's ok. Ho arrotondato la quadratura, non so. Allora, cambiamo soggetto. Allora, cambiamo.